C'è la cross, a terra Lucarelli Calcio di rigore per il Parma Calcio di rigore, contatto Santa Croce e Lucarelli Budan contro Iezo Budan, il Parma è in vantaggio Igor Budan al ventitresimo Uno a zero Il Parma è in vantaggio Clavezzi, traversa di Mannini Ancora Mannini Calcio di rigore per il Napoli Fischi del Tardini Domizzi, 1 a 1 Il pareccio del Napoli 2 a 1 Mariano Bognacino È una partita tranquilla nel senso del gioco Noi sappiamo che loro dovevano vincere per la salvezza Noi abbiamo fatto il nostro gioco Noi sappiamo che loro dovevano vincere per la salvezza Noi sappiamo che loro dovevano vincere per la salvezza Noi sappiamo che loro dovevano vincere per la salvezza Noi sappiamo che loro dovevano vincere per la salvezza